Ecco, iniziamo a quest'epoca. Sì, lo stile di questi afreschi sono lo stile italiano. Da lì inizia la storia di Adamo e Eva, lì tornò il mondo nella figura. E poi veniamo giù, canto delle storie, appunto delle storie, e poi veniamo spostando tutti i profetti prima di Gesù, che di tutti i poeta, non gli scopertano, la storia di himno e di lui, soprattutto i dei sottotitoli di Dio, poi veniamo ricottando tutti i profetti e di tutti i profetti, tutti i profetti, che di altri i cui abimini accontano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.